L'obiettivo è quello di promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza tra colf e badanti stranieri residenti in Italia e di sensibilizzare i datori di lavoro presso cui questi lavoratori svolgono la loro attività di cura ed assistenza con l'auspicio di contribuire alla riduzione dei rischi di infortuni domestici. Questo in sintesi l'essenso del progetto di INAIL Casa Sicura, campagna sulla salute e sicurezza per i collaboratori domestici stranieri in Italia. Nel 2015 è partita una prima edizione pilota di due corsi, uno per i badanti per le colf straniere e una che si è suolta la mattina e l'altra nel pomeriggio per i datori di lavoro. Edizione che è andata molto bene e che si vuole ripetere in queste due edizioni quest'anno, una sarà il giorno 23 e l'altra è prevista per il 9 di aprile. Si è deciso anche di fare un convegno proprio per focalizzare l'attenzione su questo argomento. È in distribuzione un opuscolo istruzioni per l'uso, in inglese e in italiano, dove ci sono non solo i diritti e i doveri dei collaboratori familiari, ma anche la mappatura dei rischi.